cari telespettatori di exibart come direbbe mike buongiorno oggi torniamo con la nostra puntata della rubrica la rana ed è con noi andrea bruciati direttore delle ville di tivoli ed ex direttore della fiera art verona e ancora prima direttore della galleria comunale di arte moderna di monfalcone in provincia di gorizia se non sbaglio di trieste di gorizia corizia corizia caro andrea ciao innanzitutto come stai bene bene oggi la giornata che sta volgendo verso la tempesta però bene grazie dell'invito innanzitutto grazie a te per aver accettato di partecipare a questa serie di domande che ovviamente insomma parlano di attualità indagano un pochino quello che sta succedendo nel mondo della cultura in italia soprattutto per cui mi piacerebbe partire ovviamente con la domanda più alla pace ovvero ripriamo lo stadio olimpico ma ancora non sappiamo se ripriamo i musei o meglio in questo in questo tempo no ci siamo accorti che insomma la cultura non è stata considerata un bene particolarmente essenziale e infatti musei per ormai non so quante volte in un anno sono stati aperti poi sono stati richiusi poi sono stati riaperti sono stati richiusi in base alle zone eccetera in base ai colori delle zone eccetera così e per cui insomma sembra che ci sia stato anche mi sembra che ci sia stato però un certo silenzio da parte proprio degli degli stessi attori no della cultura quindi dei musei delle istituzioni che cosa è successo come l'hai vissuta da insider diciamo così ma io l'instituto l'ho io l'ho vissuta in maniera proprio fisica molto in maniera molto stressante perché da un lato noi siamo un sito siamo un istituto fa composto da quattro siti e tre di questi sono diciamo sono estroversi nel senso che sono dei siti dove l'elemento paesaggistico è fondamentale e dove l'osmosi fra l'intervento dell'uomo e la gestione della natura sono qualcosa di unico e non per niente due dei siti sono siti unesco e quindi da un lato avevo la natura che continuava e anzi esplodeva perché se se ricordiamo bene un anno fa la primavera e quindi da un lato avevo la natura che ovviamente non aveva intenzione di bloccarsi dall'altro tutto questa bellezza questa meraviglia questa energia vitale andava come a perdersi diciamo nella sua funzione ultima nel senso che nessuno ne poteva godere io ero un privilegiato perché nonostante fossi comunque l'unico che veniva al lavoro tutti i giorni perché comunque la gestione è ben diversa dall'apertura e era un privilegiato perché comunque camminava all'interno di ettari di giardino straordinario da solo ma proprio per questo diciamo che questa situazione è quasi da quasi romantica quasi da veramente quasi dilaniante per certi punti di vista proprio l'ho sentita sulla pelle detto questo io avevo trovato una in questo momento sto studiando la iur senare per ovviamente per il diciamo la contributo e la con la diciamo è il suo fondamentale libro le memorie di adriano e avevo trovato questo passo che se vuoi ti leggo che è interessante e dice fondare biblioteche come costruire ancora granai pubblici ho ricostruito molto e il costruire significa collaborare con il tempo nel suo aspetto di passato coglierne lo spirito o modificarlo protenderlo quasi verso un più lungo avvenire significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti e aver a che fare con le rovine aver a che fare con la natura che che tutti i giorni ci fanno capire l'importanza del tempo devo dire che per altri punti di vista è stato anche veramente un messaggio fondamentale proprio sul grado di essenzialità della cultura quindi devo dire che ci doveva essere un gesto diciamo sicuramente sarebbe stato un gesto simbolico ma questo avrebbe fatto capire veramente l'importanza delle attività culturali proprio come stimolo per la mente ma anche per il fisico non a caso come ben sappiamo la bellezza stimola proprio le cosiddette noi vari elementi proprio fisici proprio fisiologia infatti viene studiata proprio per migliorare le condizioni di tanti pazienti quindi credo che tenere chiuso una risorsa concreta per il benessere per riequilibrare una una distonia un desequilibrio che tutti in maniera più o meno evidente abbiamo accumulato sia stato ecco sicuramente un errore poter camminare all'interno di questi luoghi con tutti ovviamente le le misure del caso perché noi comunque quando siamo rimasti aperti avevamo tutti i dispositivi di sicurezza attivati credo che questa poteva essere veramente stata un'occasione persa un'occasione proprio per ribaltare il paradigma di una di porre al centro di nuovo l'essere umano e sicuramente i musei e strutture come quella che io ho l'onore di gestire sicuramente ti fanno comprendere veramente la l'importanza del del pensiero dell'elaborazione estetica a prescindere dalla sua valenza cognitiva senti quindi ti giro la domanda perché abbiamo vissuto praticamente senza bellezza diciamo no per un anno abbiamo vissuto solamente in questo in questa sorta di distopia continua sempre più lontani sempre più separati sempre sempre anche più disgregati perché insomma non mi sembra affatto vero il claim di tipo più distanti oggi per essere più uniti domani ci siamo dovuti accontentare no di surrogati di vedere le cose online di parlarci online di non stringerci la mano eccetera eccetera che cosa può essere il futuro dell'essere umano senza la bellezza senza la cultura senza l'arte senza poter camminare tra le ville di tivoli nel parco senza poter vedere le rovine cioè te lo immagini un futuro senza queste cose ma allora diciamo ci sono stati diversi momenti all'inizio c'era tutta questa grande fiducia mi ricordo anche da parte dei colleghi a viva il virtuale viva digitale viva l'esperienza eterodiretta viva il fatto che possiamo essere ovunque rimanendo a casa e quindi c'era un sacco anche di visite virtuali di prodotti virtuali io devo dire che fin da subito sono stato un po vintage da questo punto di vista anche perché per me la realtà ho la fortuna di avere una realtà aumentata già già camminando all'interno di siti nel senso che la cosa che ho sempre trovato eccezionale di queste strutture qui a tivoli è stata quella del fatto che tu vieni immerso veramente in un'altra dimensione tutti i sensi si reattivano tu hai in qualche modo una diversa percezione della realtà e ovviamente il tuo corpo in maniera quasi inconsapevole ne beneficia è una situazione veramente meravigliosa ecco non ho altri non ho altri modi per definirla credo che diciamo oggi che abbiamo un atteggiamento forse più consapevole più maturo io credo che le due cose vadano ad arricchire una un'offerta culturale nel senso che al di là della tecnologia ci sia un arricchimento nel proprio nella fruizione stessa del del bene nel senso che la fruizione non rimane più nel qui è ora e non rimane più come ricordo ma sia per le informazioni che vengono offerte vengono fornite attraverso i diversi tipologie di media diciamo che la l'esperienza diventa forse per certi punti di vista ancora più più complessa ecco non direi più non direi integrata ma più complessa quindi io non demonizzo assolutamente la diciamo la tutti questi prodotti che si sono creati però ovviamente sono integrativi sono comunque complementari a un'esperienza fisica esperienziale concreta le due cose sicuramente hanno fatto sì che oggi come oggi abbiamo molta meno innocenza dinanzi alla tecnologia e però ecco vedere come delle persone che magari non hanno gli strumenti per poter affrontare la fruizione di un bene e la tecnologia gli permette comunque di avere delle degli stimoli delle delle informazioni delle delle sensazioni mi sembra una cosa molto bella e infatti noi abbiamo tutto un programma proprio per coloro che hanno difficoltà proprio di approccio fisico e cognitivo nei confronti del bene culturale ecco da questo punto di vista la tecnologia è sicuramente un elemento molto molto importante però io per esempio essendo avendo comunque un altro tipo di formazione essendo in fondo un romantico io non adotterò mai come sostitutiva diciamo una una percezione digitale o tecnologica dei dei siti ma penso che non abbia prezzo al fatto di veramente toccare l'acqua sentire gli odori e quindi riattivare tutto tutto il nostro corpo all'interno di una di un elemento che diventa un vero e proprio ecosistema l'esperienza sì 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 senti tu hai invitato parliamo un po anche magari del tua carriera precedente nel senso come critico d'arte contemporanea come insomma tu hai scoperto tanti hai scoperto tanti giovani artisti nei raccontati li ha invitati anche alle ville e in un tuo pezzo che è stato pubblicato su arts life nei mesi scorsi hai scritto che l'arte deve essere sempre politicamente scorretta perché quando assume lo status di coscienza morale diventa semplicemente propaganda del presente e perde come dire tutto il suo senso viene da dire catartico di scoperta del mistero del mondo per cui la domanda che ti volevo fare adesso è come vedi l'arte oggi cioè che cosa che cosa rimarrà no di questo di questa epoca pandemiche non cioè anche del prossimo futuro insomma immagino che ci saranno dei vari anni di assestamento ma io vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno nel senso che se l'arte sto parlando della ricerca ovviamente non sto parlando della ma se l'arte è prodotto di una di una di una crisi credo che oggi gli artisti abbiano veramente elementi su cui poter speculare mi stupisce un po' il fatto che non vedo tutto questo cioè mi sembra che c'è invece da parte degli operatori un 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 berciare un in qualche modo riprendere i fili per una rinormalizzazione di come era prima ecco davanti a ad un momento di frattura come questo non comprendere il cosiddetto cambio di paradigma delle dei dei sistema valoriale è molto grave molto grave perché soprattutto eh quanto riguarda la creatività e l'elaborazione artistica significa non aver compreso l'importanza eh drammatica di questi tempi che ricordo come tutti i tempi estremamente ehm difficili della civiltà umana in realtà sono sempre stati forieri di 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 grande innovazione quindi mh sarebbe triste se molti molti artisti non non facessero sì che questo dolore questa questa mancanza di equilibrio diventasse qualcosa di oggettivamente importante per costruire ricostruire eh la società di domani questo sarebbe veramente un grandissimo errore e due cose che bisognerebbe fare assolutamente in questo 2021 ma anche nel 2022 due cose semplici per sostenere la cultura nel nostro paese a parte riaprire i musei ma secondo me due cose semplici è quello di appena si potrà camminare e visitare i luoghi delle nostre radici culturali perché un artista non non nasce dal nulla e non è vento eh trasportato da dai vari movimenti o dalle varie mode credo che tutto debba partire da una riflessione con il proprio suo strato culturale e quindi ehm sono sempre più stupito quando un artista di 40 anni non ha mai visitato Villa Adriana o Villa d'Este mi chiedo quale tipo di speculazioni di linguaggio potrà formulare ovviamente ehm da questo punto di vista credo che l'Italia sia veramente un bacino incredibile e inesplorato per tantissimi artisti quindi mi auguro che ci sia maggior consapevolezza quindi proprio veramente una gita fuori porta o anche all'interno delle proprie porte cittadine in città strepitose a partire da Milano o Roma insomma e credo che questa sia la prima cosa la seconda è poter ehm veramente ehm aiutare supportare tutte le attività anche eh legate al cinema al teatro al cioè questo sono dei modi molto semplici con cui però concretamente si può aiutare un settore che è veramente in ginocchio e la politica come potrebbe aiutare? La politica guarda noi per esempio io sono come dicevo prima il nostro è un sito è un istituto estroverso nel senso che noi siamo parte integrante del territorio e io ho scoperto diciamo in questo in questo dramma di essere anche parte di una collettività noi per esempio abbiamo attuato tutta una politica di accoglienza e di riguardo nei confronti della comunità tiburtina proprio perché crediamo assolutamente che tutto debba ricominciare dall'identità della della persona quindi ehm dall'identità della persona per cui eh chi è del che nasce qui e chi è i comuni limitrofi hanno uno sconto uno sconto considerevole per esempio per entrare nei siti ma dall'altro per esempio abbiamo fatto questa abbiamo realizzato questa formula che che io sappia nessun altro ha pensato eh con l'unione commercianti e quindi se tu acquisti qualcosa che se sei al ristorante se vai al bar e vieni eh ai nostri ingressi ed è uno sconto eh nella bigliettazione e viceversa cioè chi è che visita i siti ha diciamo un benefit se poi se poi rimane sul sul territorio e e quindi aiuta l'economia concreta questo ecco è una cosa semplice ma io credo estremamente importante che eh credo che lo Stato debba fare e nel nello specifico tanto più eh sottoscritto come gestore di di due siti UNESCO perché i siti UNESCO hanno anche questo valore deontologico e morale fortissimo nei confronti della collettività non siamo soltanto dei luoghi bellissimi e unici al mondo ma anche dei luoghi che devono presentare dei modelli di sviluppo sostenibili e quindi per esempio noi abbiamo abbiamo cominciato questo investimento su sul 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 riveto sulle sulle produzioni agricole proprio perché da un lato vogliamo far capire l'importanza che ha per le radici culturali del luogo e della comunità dall'altro anche per far capire che possono essere delle 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 attività di sviluppo sostenibile anche per le giovani generazioni su questa tua ultima affermazione ti faccio l'ultima domanda che cade a fagiolo perché mi piacerebbe correggimi se sbaglio sapere il tuo modo diciamo il tuo modus operandi no cioè da dal museo di Monfalcone alla fiera di Verona fino adesso alle ville di Tivoli mi sembra che tu abbia sempre lavorato reimmaginando l'esistente no per cui un po se ci se ci puoi spiegare questo tuo processo appunto no di approcciare il il presente per dargli anzi l'esistente per dargli una per riattualizzarlo per dargli una nuova forma e su quali paradigmi secondo te sarà necessario lavorare nel prossimo futuro ma allora per me ho sempre accettato ogni tipo di lavoro come una grande sfida ovviamente innanzitutto personale ho cercato sempre di far sì che i limiti fossero una risorsa e poi sono laureato su 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 Fontana e Manzoni quindi per me era fondamentale anche questa linea sempre basata sulla ricerca e quindi su 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 guardare sempre oltre il limite io direi che forse credo molto in questa sorta di di natura autopoietica diciamo nel senso di reinventarsi il mondo in base agli strumenti che tu possiedi poi in realtà la cosa che trovo che trovo estremamente mia è che nonostante sia passato apparentemente dal dall'arte contemporanea di ricerca alla collaborazione con una struttura che comunque aveva anche uno spirito un obiettivo di matrice commerciale e ora con il ministero diciamo che ho travasato ogni volta l'esperienza nel vaso successivo e quello che sono oggi non è assolutamente una figura che aliena da colui che investiva su dei giovani ventenni 15 anni fa quindi devo dire che ogni cosa mi è servita per poter arricchire un paniere e quindi credo che questo discorso della dell'esperienza estetica come limite da superare possa in qualche modo essere il thread union di tutto questo percorso cioè capire qual è il limite per potersi mettere in gioco e quindi comprendere quali sono delle elaborazioni che hanno un loro grado di autenticità nel mondo dell'arte grazie Andrea no grazie a te per l'invito grazie a tutti per aver guardato questo nostro ultimo video della rana e ci vediamo alla prossima puntata di nuovo ciao Andrea salve a tutti